Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale di Times Gadget e bentornati in questa nuova video recensione. Oggi in questa recensione andiamo a vedere questo nuovo prodotto. Questo qui è il nuovo zaino della Peak Design e abbiamo l'Everyday Backpack Zip. Uno zaino davvero interessantissimo. Questo qui già ve lo posso anticipare, lo sto provando, lo sto testando da circa più di 20 giorni. Mi è arrivato poco prima delle feste di Natale e l'ho voluto portare con me in giro parecchio prima di recensirlo perché volevo capire bene quali fossero i suoi punti positivi e i suoi punti negativi. Allora, questa versione non è altro che l'evoluzione, anzi devo dire una variante parallela, del Peak Design, quello classico, l'Everyday Backpack che vi ho recensito l'anno scorso. Vi lascio comunque la recensione qui sotto in descrizione o qui sopra da qualche parte. Le due versioni quest'anno sono molto molto differenti. Quest'anno abbiamo anche la seconda variante di questo Everyday Backpack, questo qui che è classico con cui l'azienda è diventata famosa, che mantiene però l'apertura sempre con la clip e la possibilità anche di espandere. Quindi lo zaino, questo qui è la versione da 30 litri ma trovate anche quest'anno la versione da 20 per il secondo modello, però è molto simile. Quest'anno ho voluto portarvi questo modello, mi sono voluto far mandare all'azienda perché è un modello davvero interessante che secondo me vale la pena anche pensarci su se non vi piace questo tipo di design o comunque non vi piace uno zaino molto largo perché questo modello quest'anno, devo dire, è molto interessante. Infatti si differenzia, e lo dice proprio il nome, perché qui è uno zaino Everyday Backpack Zip, vuol dire che abbiamo solamente aperture con le zip. Non abbiamo la possibilità di espanderlo, ma dall'altra parte mi è rimasto un pochino un po' più, diciamo comodo, ma anche un pochino più sicuro per le aperture, ma soprattutto per la sua impermeabilità. Perché qui abbiamo delle zip che adesso vi faccio vedere come si girano, perché abbiamo una zip che gira da qui sotto, gira qui sopra, passa da quest'altra parte all'altro lato e gira fino sotto. Questo qui per riuscire a mantenere le classiche caratteristiche aperture laterali ad ali che si vanno ad aprire, sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Ma con questo tipo di cerniere non abbiamo più questa patta qui sopra, che se da una parte era comoda, però ho fatto caso che utilizzandolo tanto, questo zaino, anche all'estero d'inverno, quando piove aveva il punto debole che da questa parte l'acqua delle volte si andava a infilare qui sotto. Non che si andasse a bagnare la roba interna, però alcune volte mi è capitato di trovare un pochino d'acqua, sentirlo un pochino più umido, perché chiaramente qui poi si andava a infilare non appena l'andavamo, non so, con acqua e vento, oppure andavamo a inclinare in questa maniera, qui c'è la possibilità di andare, che si andasse a infilare l'acqua. Invece quest'anno con questo nuovo zip non c'è proprio alcuna possibilità, perché è tutto totalmente chiuso. Adesso vi faccio vedere, procedendo per gradi, un po' come è fatto. Allora, la prima cosa che è stata all'occhio di questo zaino è la pulizia estetica. Un design molto molto bello, molto minimale e soprattutto utilizzandolo tanto anche a livello quotidiano, con i mezzi pubblici, portandolo anche con me in viaggio, ho notato una cosa, una caratteristica, che questo zaino è molto comodo quando siamo fuori, perché non abbiamo tasche a vista, quindi una volta che noi facciamo girare le zip qui sopra, qui davanti non abbiamo nessun tipo di tasca, è totalmente vuoto. Abbiamo solamente le due tasche laterali, che adesso vi faccio vedere, ma lo trovo molto sicuro, perché quindi non lo possiamo mantenere tranquillamente sulle spalle senza portarlo avanti, perché non è possibile accedere a nessuna tasca dall'esterno. E questa qui è una cosa che ho apprezzato tanto, specialmente per chi come me viaggia parecchio, o comunque anche utilizza tanto i mezzi pubblici in città, è molto molto sicuro per mantenere gli oggetti all'interno senza farvi rubare. Allora, la prima cosa che voglio farvi vedere, prima di andare a aprire tutte le tasche, dato che ce l'ho a pieno carico, come sta sulla schiena. Guardate, perché rispetto al modello precedente è un modello molto compatto e mi piace particolarmente perché si tiene davvero molto aderente alla schiena. Vi faccio vedere come sta. Prima di tutto è più piccolo e si mantiene leggermente un po' più alto come in linea, rispetto al modello precedente che aveva l'inclinazione della patta superiore e quindi sembrava un modello che andava un po' più in giù, un po' più in basso. Mentre questo qui si mantiene molto bene, guardate poi, oltretutto, è compatto e quindi è molto piccolo. Adesso io lo so, sì, sono grande, quindi sembra ancora più piccolo, però vi posso dire che è davvero un bel prodotto. Questo qui chiaramente rimane la caratteristica, adesso vi farò vedere come si apre per farlo passare sotto l'abbraccio, per avere l'apertura veloce dai lati, per chi non avesse mai visto questi zaini o questi prodotti, ma procediamo per gradi. Allora, vi stavo facendo vedere come era fatta la parte anteriore, vi faccio vedere come è fatto sotto, dato che sotto quest'anno non abbiamo più la classica qui in tasca, no? Un po' nascosta con la clip per utilizzare le tracolline, ma le tracolline ce le abbiamo a parte, le possiamo trovare. Perché? Perché le tracolle esterne, oltre a quelle che abbiamo adesso, vi faccio vedere dai lati, possono essere attaccate a questi anellini qui davanti. Noi abbiamo quattro anelli a cui possiamo attaccare i vari laccetti, sia quelli della Big Design, ma potete anche utilizzare i laccetti dove poter fare il nodo per poter mettere all'esterno qualche cosa. Esempio, un giubbino, un drone, anche un saccappelo, qualsiasi cosa che sia più grande e che può essere anche incastrata o comunque legata a croce, la potete benissimo mettere qui fuori. Ed è una cosa abbastanza simpatica, utile, per chi di voi ha cose grandi o comunque ha dei droni, come il Phantom, che è un drone molto grande e non riesce ad entrare all'interno, lo potete attaccare quindi alla parte esterna. Mentre poi, passando alle parti laterali, le parti laterali sono, devo dire, quasi gemelle, perché sono identiche, sono uguali sia a destra che a sinistra, e abbiamo le classiche tasche della Big Design. Qui all'interno porto la borraccia per farvi vedere un po' anche la grandezza. Sono tasche fatte molto bene, come al solito fatte molto bene e soprattutto curate nei minimi dettagli, perché abbiamo la classica chiusura qui a magnete, in modo tale che quando si va a chiudere non abbiamo il magnete a vista, non abbiamo nessun tipo di chiusura. E guardate, la cosa che mi piace è che quando non utilizziamo le tasche, essendo chiuse a magnete e avendo l'elastico qui nella parte, diciamo, posteriore o perimetrale qui esterna, la tasca quando rimane chiusa è molto molto stretta. Ecco perché mi piace questo zaino, perché rimane molto più stretto rispetto al modello precedente, anche sempre paragonando al 20 litri, ma è un po' più compatto. Mi piacciono le tasche perché sono elastiche, lo possiamo utilizzare, quindi le possiamo utilizzarle per mettere qualsiasi cosa, ad esempio un treppiedi, un ombrello, anche una borraccia. E la cosa che mi piace, da una parte, ma non del tutto, è che abbiamo sempre il classico laccetto interno per poter attaccare e fissare gli oggetti grazie al venerino qui sopra, perché questo laccetto è composto da questo laccio con la parte più esterna, questa qui, la parte finale, con questo tipo di gancio. Tutto brandizzato Peak Design, quindi molto bello, e questo serve per riuscire a legare le cose in questo modo. Per esempio, se noi portiamo qualcosa di più alto, come un treppiedi, un cavalletto e sporge dalla tasca laterale, quindi riesce, tende un pochino a sbilanciarsi, seppure comunque la tracolla e tutta la parte questa qui elastica è abbastanza forte, però noi per agganciarlo non dobbiamo fare altro che utilizzare questo laccio e attaccarlo all'anellino che troviamo qui sopra, perché qui, da questa parte, sia a destra che a sinistra, abbiamo un altro tipo di anellino, dove attaccare il laccetto in questa maniera. E noi lo possiamo andare a stringere. Allora, il sistema intelligente mi piace, però anche quest'anno, come sul modo precedente, ho riscontrato il problema che, se noi abbiamo un oggetto come un cavalletto, che è ben più pesante di una borraccia, questo tipo di laccetto si tende ad allentare, quindi si tende ad allentarsi e allargarsi, e quindi non riesce a tenere ben saldo da questa parte l'oggetto che abbiamo messo. Infatti, anche su questo modello, delle volte ho dovuto, per forza di cose, fare un nodo per riuscire a fissare la fibbietta, perché da questa parte qui abbiamo solamente il pesante, ma non abbiamo un clip o comunque una sicura che ci mantiene la lunghezza che abbiamo, diciamo, settato inizialmente. Questo qui si va ad allargare piano piano, ed è un difetto che ho riscontrato anche sull'altro modello. Spero che sul prossimo l'azienda lo riesca a curare, riesca a mettere anche una clippetta di fine corsa, un sistema un po' più sicuro, perché in questo modo sì, ok, possiamo allacciare le cose, ma se sono troppo pesanti e quando lo andiamo a inclinare, dato che questo zaino per forza di cose deve essere inclinato per essere aperto, vanno a cadere. Quindi mi piacerebbe sul prossimo modello trovare un qualcosa ancora un po' più di intelligente e funzionale. Da quest'altra parte abbiamo la stessa identica cosa con l'altro laccetto che possiamo sempre andare ad incassare qui sopra, oppure anche a X da questa parte, in questa maniera, vedete, abbiamo sia gli annellini qui sotto e qui sopra, quindi li potete gestire come volete. Ma da questa parte però avete anche la possibilità di avere questo laccetto che trovate all'interno dello zaino. Questo qui è un laccetto comodo, perché se voi lo utilizzate in questo modo e lo attaccate qui da questa parte, voi le cose che mettete qui ci avrete subito a portata di mano, perché lo potete utilizzare, lo potete staccare, perché adesso vi faccio vedere questo qui, questo laccetto al sistema veloce di attacco e sgancio veloce della PIT design. Quindi avete questo, diciamo, tondino qui, che è il porta chiavi, lo cliccate, lo pigiate e lo potete staccare. Questo è comodo per portare le chiavi di casa, per portare, non so, io ho delle volte attaccato anche che aveva il porta chiavi, la pezzetta quella lì per pulire le enti, per far vedere altre volte della ama con il suo secchettino. La metto qui dentro quando mi serve, la tiro fuori, questo è elastico, è chiaro che non si può spezzare, comunque è un elastico abbastanza doppio e poi qui abbiamo tutto il rinforzo in neopreme e in TPU, comunque è comodo perché lo tirate fuori, sganciate e il gioco è fatto, una volta che avete fatto lo ritirate, lo riagganciate, lo rinfilate qui dentro nella tasca. Questo qui comunque è un laccetto che lo trovate a parte all'interno dello zaino, lo potete attaccare dove volete, però comunque è molto molto utile anche questo suo tipo di funzione. Allora poi, prima di passare all'interno andiamo a vedere invece un po' la parte posteriore, come è fatta. Spallacci, spallacci che mantengono sempre il loro classico attacco qui, diciamo circolare, per far ruotare lo spallacci insieme allo zaino, dato che questi zaini, come ho fatto vedere prima, hanno la caratteristica di poter ruotare sotto il braccio per avere sempre apportato in mano e prendere in maniera veloce le cose dalle tasche laterali, che adesso vi farò vedere come si aprono. Gli spallacci sono fatti molto bene, però un po' come primo modello, anche su questo modello, se lo caricate appieno, dopo un po' gli spallacci si fanno un pochino sentire sulle spalle. Specialmente se avete le spalle un po' come a me, qui ho un osso che leggermente sporge, non sono così morbide. Io li avrei fatti leggermente un po' più morbidi, un po' più soffici, un po' come il Wondred, che lui ha veramente gli spallacci molto molto morbidi. Questi sono fatti bene perché mi piace la finitura, mi piace anche la qualità, non traspirano purtroppo e qui si sta leggermente già rovinando un pochino, ma questo qui può succedere se si usa spesso, specialmente poi la parte destra, specialmente questa parte che è quella che va più strusciare. Comunque sono fatti bene, sono resistenti, però secondo me sono un pochino troppo sottili e un pochino troppo rigidi. Guardate, non è che abbiamo un certo spessore che è soffice, è un pochino rigido e quando portate lo zaino per tanto tempo a pieno carico, delle volte gli spallacci qui sulle spalle si fanno sentire. Infatti anche sul prossimo modello, specialmente quello da tanta litri, avrei preferito gli spallacci un pochino più morbidi. Comunque qui abbiamo il classico laccio per andare a stringere sulla parte anteriore, quindi andare a scaricare meglio il peso quando ce l'avete sulle spalle. Mi piace perché è un tipo di laccetto che se non utilizzate lo potete togliere, perché qui a fianco vedete avete queste due clip, i vari inserti qua, le varie taschine per poter agganciare quando non lo utilizzate, o in questa maniera, quindi attaccarli sullo stesso lato come sul primo modello, oppure staccarli entrambi. Mi piace perché sono molto molto curate anche nei minimi dettagli, guardate che bella anche la clip, tutta in alluminio satirato nero, chiaramente qui è nero perché riprende la colorazione dello zaino, tutte brandizzate Peak Design e anche con il picco anellino per tirarle fuori o comunque per agganciarle più comodamente. Quindi massima attenzione e anche piccoli dettagli, anche qui tutto brand Peak Design con questa fascia che è in TPU, non sembra, sì, in maniera leggermente gommato per andare, qui è bucata, forata, per andare ad attaccare gli occhiali, la penna, una qualsiasi altra cosa, quindi fatte molto molto bene. All'interno invece lo schienale, devo dire, è uno schienale abbastanza rigido, mi piace perché comunque scarica bene il peso sulla schiena, non è uno schienale di quelli molto molto morbidi, come per esempio faccio anche riferimento che siamo sulla stessa fascia di prezzo e anche un po' sulla stessa linea, sulla stessa qualità, quello del Wondred o di altri che abbiamo uno schienale molto morbido. Questo qui leggermente più duro, però comunque scarica bene. Mi piace perché questa qui abbiamo la classica, diciamo, fascia per andare a impilarlo sul trolley, il che mi piace perché rimane comoda, si può andare a impilare velocemente. Quando non si usa qui abbiamo la calamita che va a chiudere questa fascia in modo che non si va a spanciare e non si va a largare quando non la utilizziamo. E poi abbiamo le tasche laterali, adesso vi faccio vedere un po' come funziona questo zaino. Allora, questa zip abbiamo tutta una zip unica, ma la cosa interessante è che abbiamo un'unica cerniera ma con ben quattro zip sulla stessa cerniera. Ne abbiamo una qui sotto che parte qui, un'altra da quest'altra parte e poi ne abbiamo due che scorno lungo tutto la cerniera. Questo perché? Perché se noi vogliamo utilizzare queste due zip e quindi ce le abbiamo portate in mano quando, per esempio, siamo in questa maniera, siamo così, abbiamo portato in mano queste due zip, allora noi possiamo partire da queste due, la prima funge come inizio di apertura, l'altra poi chiaramente va ad aprire tutta la tasca e quindi abbiamo la possibilità di aprire la tasca velocemente quella laterale. Ma quando noi non vogliamo fare questo, noi possiamo benissimo lasciarle due zip, per esempio qui sopra in alto, ma possiamo aprirla da questa qui sotto. Questa qui sotto che ha il classico sistema della Peak Design, quindi con la possibilità di andarla, non so, ad attaccare per sicurezza ai passanti qui sotto, la potete legare. Questa qui è una zip, ha un laccetto che si può andare a staccare con il bottoncino. Lo staccate e lo potete far passare qui sotto in modo tale che bloccate anche la zip esterna. Comunque una volta fatto questo, voi potete anche farla aprire direttamente da questa e mantenere sempre le zip qui sopra. Questa qui la potete aprire fin dove volete, quindi fino a, diciamo, questa qui è la fin dell'apertura della tasca e quindi avete sempre la classica apertura laterale. È un modo molto molto intelligente, è un sistema devo dire che ci sono rimasto perché è funzionale ed è molto comodo. Internamente lo zaino come si articola? Ve lo giro in quest'altra maniera? Si articola sempre allo stesso modo. Abbiamo sempre i classici due o tre piani, secondo poi del modello che prendete, per poter suddividere gli spazi interni che sono molto comodi. Quest'anno sono stati anche leggermente migliorati i piani, perché guardate come sono fatti. Allora, io in pratica adesso l'ho riempito in modo tale che, come ho detto inizialmente, avete già un'idea degli spazi come sono, quali sono e anche un po' dei prodotti che ci possono entrare. Qui da questa parte porto con me anche una fotocamera, perché questa qui è la seconda, ma la prima, quella principale è quella che sto utilizzando per girare il video, che è un po' più grande, è la 77D. Ma io volevo far vedere invece i piani come sono fatti quest'anno, perché sono molto simili a quelli dell'anno scorso, sempre con la possibilità di creare degli scompartimenti in questa maniera, alzando e splittando quindi il piano. Ma quest'anno abbiamo anche la possibilità di abbassare questa parte del piano e quindi avere uno spazio verticale intero. Questa è una cosa comoda, perché se voi per esempio portate un drone che è un po' più alto, voi potete alzare tutti e tre i piani e quindi metterla in verticale su tutta la parte laterale dello zaino, perché si alzano tutti quanti i piani. Ecco la cosa che mi è piaciuta, anche se portate un obiettivo un po' più grande, alzate questa e lo mettete in verticale. Qui sotto poi che cosa ho? Allora, qui sotto ho un'altra novità che adesso, se volete, vi porterò una recensione completa anche di questa, dedicata. Questa qui è la nuova Backsmart, o come la chiama la Peak Design, la Pouch Tech. Questa qui è la nuova Backsmart, va, tra virgolette, dell'azienda. Molto utile, non solo perché è bella, perché è abbinata allo zaino, se nel caso ne comprate uno, ma perché è una tracolla, diciamo, è una Backsmart molto flessibile, particolare. Qui dietro abbiamo i classici due agganci, ai sganci veloci della Peak Design, quello che vi ho fatto vedere anche prima per il portachiavi laterale. Abbiamo questa qui, che si va a contraddistinguere anche per questa fascia qui dentro, che è una specie di passante dove poter far passare anche la cintura o anche attaccare a questa qui, la tracolla, quella proprietaria della Peak Design. Mi è piaciuta questa Backsmart perché è differente dalle altre. Io ho sempre avuto Backsmart abbastanza grandi. Questa invece è spaziosa, ma quando avete poche cose da inserire diventa molto compatta, perché avete la possibilità di aprirla. Qui le due, i due strap molto, molto grandi, le due cianiene molto grandi, che è possibile poi andarla a chiudere più o meno a seconda poi di quante cose portate all'interno. Internamente poi è abbastanza ampia, perché comunque io qui dentro ormai oggi ci porto di tutto. Per esempio porto cavo Anker, un altro cavo, questa qui per la powerbank, adesso ve lo faccio vedere, ce l'ho qui alla base. Poi porto con me la prima powerbank esterna, questa qui è quella portata dalla Samsung, utilissima. E cavetto da Lightproof, questo qui che è il doppio cavetto con il coperchietto per coprire i due connettori. Davvero utilissimo questo qui, anche perché è resistente anche a acqua e polvere. Poi all'interno, vi faccio vedere poi in una recensione completa, a male che va questa bag smart e come funziona, porto con me anche il SanDisk, l'Extreme che è utilissimo come harddisk. E poi porto anche, chiaramente un'altra powerbank con tutti questi accessori elettronici, è chiaro che si deve avere qualche ricarica in più. E poi abbiamo anche altre due tasche, vi faccio vedere un po' come è fatta, vedete? Avete due tasche tasche da questa parte, qui davanti altre due tasche interne. Quindi è abbastanza profonda e poi porto l'hub per questo qui, l'hub classico con le due porte USB-C per il laptop. Comunque questa qui mi piace perché se portate poche cose diventa molto piccola, molto stretta, è davvero molto molto utile, soprattutto quando utilizzate questi tipi di zaini e lo potete mettere sia nella parte bassa sia nella parte alta a seconda di voi quello che portate. Qui sotto poi ho l'altra powerbank, questa qui invece è quella dedicata da 27mA, della X-Torm per caricare il laptop, carica a 60W, questo qui ormai è diventato un oggetto indispensabile per me che spesso lavoro anche con il computer fuori o comunque non lavoro da casa o da studio. E poi faccio vedere invece come sono fatte le tasche laterali. Vi ho svuotato prima la tasca perché vi dovete ricordare, come vi ho già accennato nella precedente recensione sull'Everyday Backpack, che questi modelli, avendo queste tasche laterali che si aprono diciamo così ad ali, dovete stare attenti a non aprirle quando avete le cose qui, in particolar modo quando avete le tasche posizionate in questa maniera, perché quando le aprite in verticali dovete stare attenti perché le cose vi cadono. Quindi ricordate sempre di girare lo zaino in questa maniera o leggermente in obliquo. Comunque le tasche laterali sono fatte in questa maniera. Allora rispetto al modello precedente le tasche sono cambiate e questo qui è stato il grande cambiamento. Un pochino mi ha fatto storcere il naso perché non mi sono piaciute così tanto, perché quest'anno abbiamo due sole tasche. Questa qui sopra che si può aprire a calamità, è tutta calamitata qui e abbiamo una tasca che è totalmente elastica, quindi guardate potete anche inserire più cose, anche oggetti un po' più grandi. All'interno porto con me un altro tipo di cavo, questo qui è l'unico cavo lightning che mi ritrovo e poi invece qui sotto abbiamo l'altra tasca. L'altra tasca qui invece è chiusa da zip e abbiamo due taschine piccole all'interno. Due taschine che sono molto piccole e secondo me sono anche un pochino scomode perché vengono, non solo sono strette perché sono elastiche, ma vengono anche strette dalla zip. Quindi quando portate un oggetto leggermente un po' più grande ma piccolo, qui la zip poi non si riesce a chiudere. Comunque internamente porto con me i soliti altri due o tre cavetti, poi porto gli adattatori purtroppo per jack sia USB-C che lightning per i telefoni per riprendere e poi all'interno della taschina ho anche la classica penna USB-C da questa parte e USB-A, eccola qua, da quest'altra. Questa come qua è molto molto utile, specialmente se avete i telefoni Android che leggono le penne USB. Comunque è fatto in questa maniera, non so se molti di voi se lo ricordano o l'hanno mai visto, il pic design precedente, e parlo di questo qui che ho qui a fianco, e non neanche del modello nuovo perché il modello dell'Everyday Backpack, il secondo, la seconda variante, ha le stesse identiche tasche in questa maniera. Quello di prima erano un pochino più comode perché avevano una zip grande e poi internamente hanno tutte le taschine. Quest'anno mi è risultato un pochino più scomodo perché io che porto tanti piccoli accessori, le tasche così, averne sono due e una divisione solo in due taschine piccole qui sotto non mi è stata così comoda, non l'ho trovata così utile. La cosa buona è che questa tasca, aprendola da qui sopra, a questa ci si può accedere non solo lateralmente ma anche dall'alto. Adesso vi faccio vedere. Infatti andiamo a richiudere questa parte, abbiamo la zip che si può andare a chiudere in questo modo, e vi faccio vedere quando apriamo invece la parte laterale superiore. Questo design adesso si caratterizza perché in pratica, avendo una zip che è possibile aprirla del tutto, guardate, quando andiamo a staccare i piani, questi piani che abbiamo attaccati con il velcro qui internamente, lo zaino si può aprire tutto, a 180 gradi quindi si apre. E questa qui è una cosa molto molto utile, specialmente quando, non so, siete in aeroporto o comunque volete fare una cosa veloce e volete cambiare tutti i piani, o volete aprire totalmente lo zaino e mettere qualcosa di grande, togliete i piani, lo aprite in questa maniera a 180 gradi e potete inserire qualsiasi cosa. Nella tasca comunque qui sopra, quando l'aprite in questo modo, avete, allora, una tasca che, a seconda poi del piano di come lo andate a mettere, perché poi si va a stringere o ad allargare, comunque porto con me all'interno della tasca principale le cuffie ormai Sony, che sono inseparabili, ormai sono davvero una grande grande cuffia, poi porto il caricatore strateghi, questo qui è quello che uso ormai quotidianamente per il laptop, e poi qui sopra abbiamo una tasca tutta brandizzata a Peak Design, comoda perché è abbastanza invisibile, diciamo si nota poco, infatti porto con me i documenti, passaporto o carte identità, se nel caso non vado in viaggio, e poi porto con me anche il portabiettini da visita, questo ormai Momo classico, non so quanti di voi lo hanno mai visto, comunque l'ho fatto vedere in tante diverse recensioni, rimane un compagno fidato, non solo quando sono in giro, ma anche quando sono in viaggio. Comunque questa qui è una tasca con la zip, anche questa tutta totalmente elastica. La cosa che mi piace di questo zaino è che ha tutte le taschine elastiche, dove sono molto flessibili e possiamo poi portare un po' quello che vogliamo. Andiamo ad aprire l'altra tasca, l'altra ala, e vedete quello che vi dico, quando andiamo ad aprire dovete stare attenti, perché guardate l'obiettivo, adesso stava cascando, perché è chiaro che essendo messo così in verticale dovete stare attenti, quindi apritelo sempre in leggermente inclinato o totalmente in verticale, in questa maniera. Comunque qui porto l'altro obiettivo, questo qui è un 18-135, considerate l'altezza poi, comunque riesce ad andare bene, anche in questo caso, anche da questa parte, le possiamo abbassare entrambi oppure alzare entrambi. E poi è chiaro che da qui si può accedere, perché questo qui è uno zaino, vedete? Viene totalmente aperto, quindi potete aprire tutte e due le tasche. Mi raccomando, altra cosa, quando aprite una tasca assicuratevi che l'altra sia chiusa, altrimenti vi casca tutto dall'altra parte. È una cosa che vi dico, perché ho sentito che è successo a più di qualcuno che qualcuno si è scordato quando ha girato lo zaino, una tasca aperta e gli è caduto tutto dall'altra parte. Da quest'altra parte abbiamo la stessa identica tasca anche interna, totalmente gemella, dove all'interno, per esempio io, per quanto sia utile, comunque porto dei cavi, perché non ha un altro tipo di utilità questa tasca. Dato che abbiamo solamente la chiusura a calamita, non ho la sicurezza di portare o di inserire cose piccole, perché le posso andare a perdere. E poi qui sotto, invece, sempre con la zip, con altre due divisioni interne, altre due taschine piccole, porto l'altro attacco, invece questo qui serve per il caricatore del Mac, mentre questo qui è il cavo USB-C. Quindi state vedendo come è possibile aprire le tasche in questa maniera, sia da una parte che da un'altra. Qui sopra, invece, poi che cosa abbiamo? Arriviamo, invece, alla tasca superiore, perché qui abbiamo la tasca, quella principale, che può essere aperta a 180 gradi, ma qui sopra, invece, poi abbiamo un'altra tasca, che è quella più attaccata alla schiena, dove abbiamo il porta laptop, il porta tablet e altre piccole taschine. Adesso vi faccio vedere. Allora, da questa parte è quella più esterna, quella più vicina alla schiena. Abbiamo la classica, ormai, tasca per il laptop. E si contraddistingue questa tasca anche per una caratteristica, che l'ho apprezzata, perché, in pratica, l'azienda ha pensato bene di proteggere anche il computer in caso di cadute. Infatti, il computer ha questa caratteristica, anzi, la tasca ha questa caratteristica. Qui abbiamo questo tipo di strap di velcro. Adesso vi faccio vedere. Voi avete questa linguetta che si tira fuori. Qui avete due strap, due velcro lunghi, perché all'interno abbiamo anche quest'altro tipo di linguetta, che voi dovete tirare su o giù, e qui all'interno ci sono le varie indicazioni per 13 pollici o 15 pollici. Quindi voi lo dovete attaccare o a questa altezza, dove c'è questa linea nera, oppure a un'altezza più bassa, dove c'è qui dentro, c'è una seconda lineetta nera, da questa parte. Eccola qua. Qui c'è la seconda lineetta nera, con scritto 15 pollici. Questo perché? Perché voi quando lo andate a inserire e quindi ad attaccare, e lo tirate un pochino più giù, l'azienda ha pensato bene di proteggere e di non far toccare o arrivare il computer a terra, proprio qui sotto. Ma qui sotto c'è un'altra parte che è leggermente razzata, penso che sia sempre in gomma piume, neopremi, per uscire ad attutire l'urto. Quindi il computer, anche un 15 pollici, non va a toccare qui sotto, perché in caso di caduta, l'urto viene assorbito dalla parte da rialzo che c'è qui sotto, e anche da questo tipo di sistema, che in pratica questo sistema fa così, fa una specie di C qui sotto, in modo che il computer viene tenuto da questa fascia che viene attaccata con i vari vecchi all'interno. È un sistema davvero molto intelligente, perché voi potete scegliere se portare il 13 o il 15 e avete anche il computer sempre protetto, anche in caso di caduta. Qui sopra invece poi abbiamo un'altra tasca, perché qui dentro si vanno ad articolare diverse tasche che poi sono leggermente invisibili perché poi si vanno a chiudere con le calamite e delle volte neanche si vedono, perché qui abbiamo questa qui, la tasca del computer che ho fatto vedere ora, e poi si stacca questa e qui c'è l'altra tasca per tablet e book reader, quindi potete mettere quello che volete. Non è molto profonda, però comunque può andare tranquillamente all'interno un tablet anche più grande, anche un 12 pollici. Poi invece qui sopra lo zeno si articola in questa maniera. Qui abbiamo un'altra tasca dove abbiamo la possibilità di mettere qualsiasi altra cosa, per esempio per farvi dare un'idea, per farvi avere un'idea della grandezza, porto con me gli altri due telefoni che porto solitamente. Questa volta, in questo periodo, giro con il secondo telefono come OnePlus e poi porto anche il Pixel per varie foto e vari confronti. Però questa tasca, vedete come è fatta? Qui abbiamo uno spazio abbastanza ampio, tutto in elastico, è tutta una tasca elastica e in pratica è la tasca che vedete qui. È questo tipo di tasca. Infatti vi consiglio sempre di non mettere cose molto molto pesanti e di girare lo zaino in questa maniera quando per esempio portate come a me i telefoni, perché tutto il peso poi viene scaricato qui sopra. Ecco, un po' una cosa che non mi è piaciuta è stata questa. Soprattutto poi quando portiamo il computer questa tasca diventa un pochino difficile perché si va a stringere. Quando avete lo zaino a pieno carico, e vi vado a chiudere, adesso lo faccio vedere, nel frattempo state vedendo quanto è semplice e quanto diventa flessibile l'aprire e chiudere una tasca piuttosto che un'altra. Comunque, quando avete lo zaino a pieno carico e avete anche il computer, questo qui si va un po' a comprimere e va a comprimere proprio le accessori che sono posizionati in questa tasca. Perché questa qui in pratica è una tasca di mezzo e dovete stare attenti perché si va molto a stringere. Perché l'apertura è questa e per infilare la mano delle volte diventa difficile perché la tasca si sviluppa invece più là, più internamente e quindi diventa un pochino stretta. Comunque qui abbiamo questa tasca principale e poi abbiamo altre due taschine. Da questa parte, taschine sempre tutte elastiche, con una... qui non c'è la chiusura zip, ma porto con me le cuffie. Queste qui sono le ultime, vi ho fatto la recensione recentemente in questi giorni, della Plantronics che sono molto molto buone. E poi porto sacchetta con vari adattatori, spillino per la sim e quant'altro. Da questa parte ho inserito, dato che sono elastiche, anche la penna per il tablet e ho anche le cuffiette, altre cuffiette in-ear, queste qui della Samsung, quelle AKG. Ultima cosa, ragazzi, che mi stavo scordando di dirvi di questo zaino, che fa davvero la differenza rispetto al modello precedente e non vi parlo solamente di questo modello zip, ma proprio di questi ultimi modelli che ha rilasciato l'azienda quest'anno rispetto al precedente vecchio Everyday Backpack, che ha aggiustato una cosa internamente, in pratica più che altro l'ha facilitata la cosa. Molti utenti, compreso io l'anno scorso, hanno criticato la difficoltà nell'andare a mettere e allineare i piani interni, perché questi piani, non ve l'ho fatto vedere questo qua prima, si possono staccare perché hanno qui le parti in velcro e vedete come sono fatti, sono semi rigidi, si possono, chiaramente questi qui si alzano, dato che ve l'ho fatto vedere prima, in questa maniera e quindi in questo modo poi avete voi tre scompartimenti potete creare, ma questi piani però, una volta staccati, nel precedente modello era davvero difficile di andarli a rinserire, non tanto andarle a inserire dentro, ma andarle a inserire in maniera corretta, quindi allineati e soprattutto centrati. Quindi prima si doveva ogni tanto aprire sulla parte laterale e si doveva allineare in questa maniera, poi si andava ad aprire la parte superiore per vedere se il piano era allineato e non stava né troppo spostato a sinistra o né troppo spostato a destra. Quest'anno invece finalmente l'azienda, ascoltando i tanti pareri critici anche tra virgolette degli utenti, ha pensato a un'ottima cosa, a una cosa geniale, perché ha creato questi tipi di punture interne che non sono in punture messe lì tanto per, ma sono in punture molto utili, perché in pratica il piano che andate a mettere, vedete, ha questa in puntura cucitura centrale, ecco questa cucitura la dovete, la potete far allineare con la cucitura centrale che avete qui. Queste linee invece, queste in punture, comunque cuciture orizzontali tratteggiate, sono quelle che invece dovete eseguire per mettere in, diciamo per allineare il piano in questa maniera. Voi allineate sia la parte orizzontale e sia la cucitura verticale, sia da questa parte e chiaramente poi la dovete anche allineare da quest'altra, perché qui avete tutta una serie di cuciture lungo tutto lo schieniale posteriore per fare la stessa identica cosa. Quindi voi non solo adesso potete contare a quale cucitura metterla, orizzontale, perché qui vi fungono anche un po' da, diciamo, da livelli, no? A quale cucitura l'avete messa, alla prima, alla seconda, alla terza, in modo tale che lo potete mettere in piano, ma oltre a questo avete anche l'allineamento verticale grazie a questa piccola cucitura verticale qui sul piano e a quella centrale qui all'interno dello zaino. Ecco, questa qui è una cosa che non vi avevo detto perché è molto, molto utile, davvero molto pratica. L'ho apprestato tantissimo nell'utilizzo quotidiano perché voi una volta che aprite totalmente lo zaino, ed è questo qui lo zaino totalmente aperto, per andare a rimettere i piani, non vi dico che è cosa difficile sull'atto, sul precedente modello, ma andarli allineare fatto bene e soprattutto metterli in piano e centrarli anche all'interno uno zaino non era una cosa semplicissima. Avete visto quante cose riescono ad entrarci in questo zaino? Oh, chiaramente tutti gli accessori che vi ho fatto vedere li potete trovare tutti su Amazon, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Questo qui è la versione da 20 litri, come avete capito, ma quest'anno viene proposta anche la versione da 15 litri. Non abbiamo una versione più grande, quindi da 25 o da 30, ma quella lì rimane un'esclusiva, tra virgolette, dell'altro modello, quindi del primo, Peak Design e chiaramente anche della seconda variante. Quest'anno la versione, questo qui, da 20 litri, la possiamo trovare in tre diverse colorazioni, sia così tutta nera, con gli interni grigi chiari, oppure la possiamo trovare anche in grigio chiaro, che è come questo qui, lo stesso tipo di grigio che abbiamo del primo modello, sempre con le rifiniture nere, e poi abbiamo anche la versione in blu. Poi c'è una versione, ma quella lì è limitata solo a 15 litri, anche pensata particolarmente anche per il mondo femminile, anche per le donne, che è la versione da 15 litri solamente, ma abbiamo il bianco, bianco panna con delle rifiniture, per esempio come sui bordini o dove c'è il logo in marrone in pelle. Davvero molto molto bella, a me piaceva anche tantissimo quel tipo di colorazione. Peccato che non c'era la versione da 20 litri, perché a me già il 20 litri delle volte mi è un pochino stretto per quanto è accesso al riporto, figuriamoci il 15. Io comunque vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione e questo azienda lo possiamo trovare sul sito ufficio dell'azienda, della Peak Design, ad un prezzo di 200€ per la versione da 20 litri, 172€ per la versione da 172 litri. Poi chiaramente non è compreso il Poch Tech, perché il Poch Tech, questo qui la Backsmart, ha un costo di 29-25€, anche di questo comunque vi lascio i link qui sotto in descrizione. Purtroppo di questi nuovi modelli ancora non c'è disponibilità su Amazon, vi lascio solamente il link alla recensione del primo modello e vi lascio anche il link, se nel caso vi interessa, ad Amazon del primo, ma su questo ancora non c'è disponibilità. Né di questo e né di qualche Poch Tech. Di questo modello in particolare c'è la possibilità di trovarla qualche versione, qualche colorazione, però comunque sono ancora abbastanza limitate. Per ora quindi lo possiamo trovare solamente sul sito ufficiale dell'azienda. Come alzate voi ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questi modelli, se avete già provato questi Peak Design e poi come al solito, se avete qualsiasi altro dubbio, informazione, demanda o volete ancora qualche dettaglio, non esitate a contattarmi. Sia qui sotto nei commenti, oppure lo sapete, mi potete sempre contattare in privato sull'account di Instagram o anche sul gruppo di Telegram. Come al solito vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Come ultima cosa ragazzi, prima di chiudere questo video, non scordatevi di iscrivervi qui sul canale YouTube, accendete la campanina e trovate qui sotto delle notifiche per sapere sempre quando sono stati caricati nuovi video e non scordatevi, se vi piacciono questi tipi di prodotti, di lasciare un bel like qui sotto, mi fa sempre molto piacere e aiuta anche a sostenere il canale. Detto questo, noi ragazzi ci vediamo sicuramente alla prossima video recensione da Dammit Gadget per Giorgio, buona giornata a tutti e grazie ancora.